Ragazzi buonasera a tutti bentornati su Crypto Salad, qui Federico, è il 9 giugno 2023, Bitcoin 26.500 dollari in questo momento. Ragazzi guardiamo la situazione per Bitcoin sul giornaliero, una possibile formazione che Bitcoin sta creando sul grafico, guardiamo il time frame settimanale perché ci stiamo avvicinando a importanti chiusure della settimana attuale e poi ragazzi parliamo delle altcoin che stanno sicuramente soffrendo in questi giorni di bassa volatilità di Bitcoin ma c'è un supporto importante proprio sotto quella che è la market cap complessiva delle altcoin. Quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche, lasciate i vostri messaggi, utilizzate il referral link di Bybit in descrizione se volete sostenere il canale. Ragazzi guardiamo Bitcoin, time frame giornaliero, siamo su Bitstamp, c'è plausibilmente una formazione grafica che Bitcoin sta creando forse a partire da aprile 2023 che è potenzialmente un falling wedge, quindi una formazione che vede il prezzo ristretto tra supporti e resistenze con il prezzo che tende a diciamo creare minimi lower low e lower high, quindi una formazione che vede il prezzo andare al ribasso ma che nella maggior parte dei casi ovviamente si tratta solo di una questione di probabilità, vede la violazione del livello di resistenza è un target che è equivalente a quello dell'ingresso nel falling wedge. Quindi se Bitcoin come vedete che ha diversi punti di contatto in resistenza discendente dovesse violare questo livello di resistenza e sicuramente un breakout dovrebbe essere confermato dai dei volumi in arrivo potremmo assistere a un rally fino ai 30.800 dollari. Invece se Bitcoin dovesse, ovviamente è sempre possibile anche se meno probabile che Bitcoin violi il supporto in zona 25.000 abbiamo invece un target sicuramente ribassista per Bitcoin. Vi ricordo che oltre a questo possibile falling wedge che deve essere confermato da un breakout di supporto e resistenza ma che per adesso potrebbe avere senso perché abbiamo dei volumi tutto sommato discendenti durante la formazione grafica il volume tende ad asciugarsi vedete che abbiamo uno spike anche se non particolarmente rilevante di volumi all'ingresso della formazione poi pian pianino il volume si sta asciugando quindi stiamo assistendo a più conferme sulla correttezza di questa possibile formazione vi ricordo che Bitcoin nel qualche giorno fa 5 giugno ha testato il livello dei 25.400 che corrisponde ad un livello molto importante di supporto quindi sto parlando del livello di precedente resistenza creato da questo testa-spalle rialzista vedete che abbiamo spalla sinistra, testa e spalla destra con una neckline proprio in zona 25.200 diciamo che non ci siamo arrivati precisamente perché ci siamo formati a 25.300 ma il proprio punto di contatto con la resistenza è invece 25.200 dollari mentre abbiamo quest'altro punto di contatto nel maggio 2022 invece a 25.300 quindi diversi punti di contatto tra supporto e resistenza proprio sul livello che è stato testato da Bitcoin in supporto pochi giorni fa vediamo per ragazzi invece il settimanale parlavamo dell'importanza di due medie mobili in particolare e la price action continua per adesso a confermare l'arrivo del supporto di queste due medie mobili sto parlando della media mobile delle 20 settimane e quella delle 200 settimane vedete come il prezzo le tocca entrambe durante questa settimana ma rimbalza al di sopra delle 200 settimane in questo momento prezzo delle 200 settimane scusate livello delle 200 settimane che si trova in zona 26.400 quindi sarà importante chiudere la settimana chiudere la settimana al di sopra del livello dei 26.400 per confermare l'arrivo del supporto della media mobile delle 200 settimane ragazzi in ultimo guardiamo l'andamento delle altcoin ovviamente c'è grande attesa sulle alt che sono rimaste ancora indietro rispetto a bitcoin nel 2023 bitcoin ha recuperato importanti punti percentuali rispetto all'apertura annuale apertura annuale in zona 16.500 mentre molte altcoin sono rimaste indietro sono ancora a livello magari dei minimi fatti nel 2022 abbiamo un punto di supporto interessante la sto parlando della media mobile dei 200 giorni questa è la market cap che esclude bitcoin quindi la market cap delle altcoin che include anche ethereum è quello che è interessante che a seguito di questo breakout della media mobile dei 200 giorni qua stiamo proprio ritestando ormai da diversi giorni il supporto della media dei 200 giorni vedete che si trova in zona 547 billion di market cap quindi sarà importante vedere continue chiusure di questo grafico al di sopra dei 200 giorni un'ulteriore potenziale conferma del supporto in arrivo è la presenza del golden pocket proprio in prossimità del livello attuale vedete che se colleghiamo il massimo e il minimo il punto di supporto in cui ci troviamo in questo momento è proprio quello contrassegnato dalla zona che va tra lo 0.61 e le 0.65 quindi siamo in prossimità della golden pocket non vogliamo perdere questo livello di confluenze in supporto ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate grazie per la vostra attenzione noi ci vediamo al prossimo episodio ciao